Scissione confermata. Scissione confermata. Scissione confermata. Scissione confermata. Siamo in vantaggio noi Confermata Sto ricaricando Il nostro UAV è in sorvolo Confermata Missile cruise in avvicinamento UAV nemico in zona Arriva il nostro attacco con mortaio Uccisione confermata Uccisione confermata Sì 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 I nemici usano un ricognitore I nemici usano un uccisione gambio caricatore Sto ricaricando Nemico avvistato Piazza una mina Sto ricaricando Lancio una granata Mi hanno colpito Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Uccisione confermata Cambio caricatore Sto finendo le munizioni Torretta pronto all'uso È la mia ora Padre Arriva l'attacco con mortaio alleato Corretta robot schierata Sto finendo le munizioni Sto finendo le munizioni UAB nemico attivo Sto ricaricando le munizioni Sto ricaricando le munizioni Confermo un'uccisione Area bersaglia marcata Fuoco alle polveri Ricevato off parola a salve Anche se la l'altro Devo andare peggio! Ti guardo le spalle! Restano trenta secondi! Restano dieci secondi! Disonori la tua famiglia! Disonori la tua famiglia! Mayday! Mayday! Non compri uno colpito! Riservo! Non compri uno colpito! Missione compiuta! Bel lavoro! Unicopter m'imicamente aina! Unipro! 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 Grazie a tutti.